eccomi buonasera ho delle giornatine di nuovo che mamma li turchino ma ce la posso farcela stavo leggendo una cosetta sul social dove mi avevano taggato e volevo capire il perché per come why dopo comunque a rilecco con calma ma stasera ho deciso come avevo detto di fare la recensione del nuovo libro di adam green ovvero le carte del destino tecnicamente è un manuale estremamente completo e specifico sull'utilizzo delle sue no delle sue no che se non me mena delle carte del destino che lui ha creato ma devo dire che a parte il discorso diciamo meramente tecnico dato che questo libro comunque un libro tecnico un libro che insegna spiega e percorre l'utilizzo appunto del mazzo delle carte del destino con delle spiegazioni estremamente ricche e precise carta per carta con le simbologie dei più dei meno cosa significhino cosa non significhino e via dicendo con insegnamenti sui vari tipi di stese che non trovate tanto lui parla del bivio dove per esempio il bivio non è quasi mai nominato poi vabbè la croce classica la croce a 3x3 la novena e tante altre tecniche in fila o alla rinfusa le carte dell'ora i mazzetti quindi comunque ci sono delle spiegazioni estremamente ampie anche su i vari metodi di utilizzo non solo sui significati da manuale quello che mi è piaciuto di più ammetto è la parte che lui ha intitolato ve faccio vedere solo il titolo un po' di più su adam green perché la trovo bellissima precisa perfetta e non posso esimermi dal fare anche i complimenti ad adriana bianchi per bellissimo disegno che ha fatto che ha creato proprio per il libro di adam e che ha inserito adam appunto nelle prime pagine la spiegazione di come conservare di come consacrare passo passo le carte di come purificarle tutto qualsiasi domanda possa sorgervi sull'utilizzo e me lo sono letto tutto tra ieri e oggi sull'utilizzo delle carte del destino è ampiamente chiarificato in questo libro poi c'è un po' di sue storie chi è adam green l'ideatore delle carte del destino se siete curiosi da come sono nate quindi la loro storia ovviamente non ve la leggo perché le mie recensioni sono solo a titolo informativo e sono soltanto su come io giudico un libro piuttosto che un altro giudico in senso letterario ovviamente ma non faccio spoiler ho fatto spoiler solo sui miei perché se i miei posso permettermi di spoilerare quello che mi pare però ecco i titoli diciamo dei paragrafi quelli mi permetto sempre di citarli anche perché danno l'idea del contenuto rituale di consacrazione esclusivo per le carte del destino ad esempio e appunto poi c'è proprio tutto il paragrafo sui vari tipi di stesa che era quello che vi dicevo prima con diverse tipologie di metodi per proprio per metterle giù per creare le stese le spiegazioni del perché il mazzo sia personale o del perché si possano usare per noi un mazzo e se invece sono rivolte agli altri un altro mazzo diverso ve l'avevo spiegato anche nei video dove faccio le piccole veggenze questo è il mazzo che io utilizzo per fare le veggenze diciamo nel mercoledì interattivo perché io le faccio solo lì però per voi mentre invece per me ho l'altro mazzo che è la prima edizione che utilizzo esclusivamente per le mie domande poi ci sono anche questo anche è bellissimo per comprendere meglio la cosa che io amo in assoluto di più nelle spiegazioni e non so se ve ne siete accorti ho l'abitudine di usarla tantissimo anche io questa metodica per spiegare le cose e sono gli esempi lui fa lettura esempio numero uno esempio numero due esempio numero tre sia delle letture e sia proprio delle figure per far comprendere meglio oltre alla descrizione scritta e questo dal mio punto di vista è importantissimo perché non c'è come gli esempi che spesso aiutano proprio a capire meglio il concetto e l'utilizzo di qualsiasi cosa quindi direi che la struttura e l'idea anche di elencare con le loro spiegazioni carta per carta in ordine alfabetico è dal mio punto di vista estremamente geniale perché se ti capita una carta con la lettera in ordine alfabetico vai a trovare subito la sua spiegazione dato che lo sapete ve le faccio sempre vedere ma ve le faccio rivedere un'altra volta le carte del destino non hanno i numeri come succede per i tarocchi o per altri tipi di carte no? hanno solamente le scritte ogni scritta corrisponde alla veggenza che state facendo di conseguenza anche se sembra un discorso diciamo logico è stata comunque un'intuizione secondo me estremamente significativa quella di metterle proprio spiegazione per spiegazione tutte in ordine alfabetico per una molto più semplice consultazione del libro stesso la copertina eccola Adam sempre con i tuoi colori bella maneggevole questa è in carta liscia l'altra che avevi creato del incantesimo dei varattoli che mi sembra di avere sempre qua anche lui era in carta ruvida questa è in carta liscia questa da più un senso di antico questa invece più di moderno però devo dire che le due cose si azzeccano tantissimo perché gli incantesimi fanno parte comunque della sfera arcaica della sfera antica e quindi la carta stile antico ci stava benissimo le carte del destino invece sono un'innovazione moderna e di conseguenza la copertina sullo stile moderno quindi sulla non lo stile perché poi lo stile è sempre il tuo ma proprio la tipologia di carta che ricorda invece la modernità dei giorni nostri ci sta assolutamente è legata proprio a ciò di cui tu parli qui come quella ruvida quella tipo effetto pergamena ci sta perfettamente in un libro che tratta di incantesimi quindi dal mio punto di vista è un altro piccolo gioiello che io che io che io che io che io che io che ovviamente entrerà lì nella mia library perché ci posso mica sta senza e ce l'ho che altro posso dire in dettaglio non ci non ci entra non ci posso entrare ovviamente ma ho trovato davvero una completezza di spiegazione che è rara da trovare un'altra piccola parte che mi è piaciuta tantissimo è la classica risposta da lama che ti sei beccato dal tuo lama perché che non la cito perché fa parte della completezza del libro ma tanto so che a me mi senti e sai di cosa parlo la risposta che ti ha dato il tuo lama è la classica risposta da lama non ci piove che poi tu ovviamente l'abbia compresa e ci mancherebbe che no ma a volte e parlo anche per esperienze personali passate le risposte di certi maestri sono davvero la cosa più criptica che possa esistere sulla faccia della terra di conseguenza mi ha fatto un po' sorridere leggere la risposta del tuo lama alla tua domanda devo dire che non ho trovato nessuna cosa criticabile in senso negativo ovviamente sempre in senso buono ci mancherebbe io di solito valuto molto sia i punti di forza che anche i punti di debolezza di tutte dalle attrezzature ai libri che leggo e via dicendo ma in questo tuo ho trovato solo ed esclusivamente punti di forza e chicche piacevoli da leggere addirittura da immaginare nella loro scenografia vi leggo come per tutti i libri la parte retrostante alla copertina che dice le carte del destino nate da un'idea di Adam Green in poco più di un anno dal gennaio 2022 a oggi sono diventate un bestseller del panorama delle carte divinatorie in Italia molto più intuitive e dirette di un oracolo possono risponderti con una frase di senso compiuto a qualsiasi domanda tu gli porga arrivate già alla terza edizione al momento della stampa di questo libro si ripropongono aggiornate con altre carte contenenti nuove definizioni per essere sempre più dirette e precise nei responsi all'interno di questo libro troverete anche il rituale per consacrare a voi stesse o stessi le carte del destino e questo è un altro punto estremamente di forza infatti io me lo sono letto rituale creato esclusivamente per questo mazzo di carte da Adam Green quindi come per gli altri libri che ho recensito anche perché solitamente io recensisco in questa playlist libri quasi solo ed esclusivamente o i miei libri o libri che ritengo estremamente validi utili e quasi necessari o comunque ottimi per le varie tematiche che trattano quindi in generale anche loro anche lui il lo entra a far parte ufficialmente della playlist del mio canale youtube che si intitola libri mazz che fantasia che ho quando faccio i titoli delle playlist mi stupisco da sola sono tonta lo so detto questo vi saluto stasera il video era questo ma era a parte che era una promessa che ho fatto ieri non appena mi era arrivato avevo promesso vi avevo promesso che avrei immediatamente letto guardato tutto il nuovo articolo e ve l'avrei recensito e tra l'altro io quando leggo qualcosa ho l'abitudine di recensirla subito perché mi piace nelle mie recensioni descrivere al meglio proprio le impressioni a caldo che ho avuto su quel libro su quel la cosa che recensisco quindi perché a caldo perché poi col tempo i dettagli si dimenticano un po' perché poi magari si vanno a riguardare assalti diversi non si ha più l'enfasi della prima lettura di conseguenza mi piace recensire subito appena finisco di leggere un libro mi piace se secondo me il libro vale la recensione mi piace recensirlo subito e questo me lo sono proprio divorato tra ieri e oggi e tra l'altro mi ha aiutato tantissimo perché le ho a suon di farle diciamo poi io le utilizzo tantissimo le ho imparate abbastanza bene a comprendere a capire ci intendiamo siamo diventati amici ma ammetto che qualche dubbietto soprattutto sui segni cioè quando uscivano magari due uguali tre più due meno tre più e via dicendo qualche dubbiozzo ce l'avevo ancora sulla stabilità della risposta e il libro mi ha tolto completamente ogni dubbio anche riguardante quei piccoli cavilli quindi anche in questo caso non perché Adam sia un amico ma proprio perché il libro vale a prescindere straconsigliato io comunque non avevo fatto salutare Lady Ghost Lady Saddu che a prescindere comunque salutano qua sotto come sempre la lista di tutti i social dove mi trovate in giro saltellante un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mille librerie che tengono in venita i miei libri uno l'ho perso chissà dove l'ho perso non si sa ne avevo due ora uno l'ho perso cerotti perché mi sono infioccinata stamattina mentre cercavo di infilare una plafoniera a mezzaluna mi è praticamente esplosa in mano senza un vero perché senza un vero perché e quindi ero incerottata ora questa ha retto qua ce n'era uno più piccolo ma mi sono accorta adesso che l'ho perso ma tanto qui c'era proprio un buchetto che mi sono ritrovato alla mano che sembrava un puntaspilli e vabbè capita succede ma poi passa vi lascio qua sotto anche il link del del giardino dei libri dove eventualmente trovate il libro peccatante lo so che il tempo che pubblico questo video me lo chiedete in 50 perché succede sempre così allora onde evitare che poi io debba rispondere a destra e a manca in ogni dove vi lascio qua sotto direttamente il link anche del giardino dei libri alla pagina di vendita del libro di Adam detto questo ciao